E' tornata in Gran Gala in cucina, ho messo le daniche la mia teoria alimentare, tutte le decorazioni in panissia, scusate per i panni dietro ma purtroppo non c'è altro spazio puoi prendere anche l'albero e che dire, continuiamo le nostre preparazioni natalizie di Santo Stefano, noi vi abbiamo già detto che siamo su tutti i vari post e link in gruppi, aprite la campanella e scrivetevi, metteteci like, fateci conoscere, tanti tanti auguroni bimbi, divertivitevi tutte queste feste natalizie senza pensare a scuola, all'asili, state con le vostre famiglie care e aspettate la Befana, con questo continuiamo, ciao a tutti da Gran Gala in cucina